Bip, chi non accende la luce? come si scende? lo dico all'autista come funziona così si può trovare la luce che si può accendere si può alzare la luce arancione guardi l'autista vorrei tanto lavorare in autobus 9.32 sto registrando sto registrando accendi la luce arancione arancione spento prossimo fermata cavallo Jay per il camo serbio qui giochiamo banquets su caout la scritta bus ibeto bus ibeto questo è via del cavallo Jay porta cavallo Jay puoi fare il Widog cavallo Jay Gregorio VII Gregorio VII ok rilascian vittin 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 Prossima fermata, Cavalleggeri, San Pietro Come passiamo, capito? Questo, sì E poi Cavalleggeri, San Pietro